Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi, nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, detto questo, andiamoci dentro col video. È la domenica mattina del 17 marzo 2019, ci troviamo a Marsala, in provincia di Trapani. I genitori di Nicoletta Indelicato non trovano la figlia in casa. Damiano Indelicato, papà di Nicoletta, e la moglie si preoccupano da subito. Chiamano Nicoletta ma non giunge nessuna risposta, mandano messaggi, niente. Non hanno dubbi, vanno dai carabinieri a segnalarne la scomparsa. Il padre di Nicoletta sottolinea ai carabinieri che la figlia era rientrata a casa la sera prima, alle 19.40, dicendo che non sarebbe uscita. Poi però aveva comunicato alla madre con un messaggio inviato a mezzanotte e 16 che sarebbe uscita con l'amica Margareta Buffa e che sarebbe rientrata tardi. I genitori erano fuori a cena. Il papà di Nicoletta racconta i militari che raccolgono la denuncia di come egli fosse contrario alla frequentazione della figlia con quella ragazza. Perché avevano avuto diversi litigi e perché frequentava Carmelo Bonetta, con il quale qualche giorno prima aveva avuto una spiacevole telefonata nella quale Carmelo ha detto al padre di aver avuto un rapporto intimo con Nicoletta. La denuncia si conclude dicendo che Nicoletta non solo non ha fatto più rientro a casa, ma non ha nemmeno risposto alle chiamate al telefono fatte dalla madre, né tantomeno ai messaggi su WhatsApp. In città a Marsala non si parla di altro perché la famiglia Indelicato è ben voluta, conosciuta e per bene. Da subito i militari dell'arma cominciano le attività di indagine coordinate dalla procura della Repubblica di Marsala, finalizzate al rintracciamento della ragazza, scavando nel suo passato, analizzando le frequentazioni e, soprattutto, ricostruendo i movimenti antecedenti alla scomparsa. Scoprono quindi che circa un mese prima la giovane Indelicato avrebbe riportato un guasto alla propria macchina. Un problema ai freni che, stando a quanto riferito dal meccanico, non si trattava di un normale problema tecnico, quanto di una vera e propria manomissione. Il padre della ragazza aveva pensato di denunciare l'episodio alle autorità, poi il tutto è andato nel dimenticatoio. Su Facebook Nicoletta postava sue foto sorridente con gatti e fiori, mentre Margareta pubblicava le sue pose con vestiti da modella. Nel suo ultimo post pubblico c'è un disegno che raffigura un cuore che, poco a poco, si trasforma in pietra. Carmelo Bonetta, su Facebook, ha quattro profili e si definisce un uomo che ama i valori della famiglia. Scatta dunque l'operazione di ricostruzione degli ultimi movimenti di Nicoletta, di tracciare gli ultimi contatti avuti dalla ragazza la notte tra il 16 e il 17 marzo. Iniziano a stringere il cerchio su Margareta Buffa e Carmelo Bonetta, li contattano e li convocano in caserma. I carabinieri li ascoltano e già dalle loro prime dichiarazioni appuntano il fatto che sugli orari e sugli spostamenti di entrambi ci sono versioni diverse. Nicoletta e Margareta si conoscevano da sempre, ma da poco avevano deciso di frequentarsi in modo più assiduo. La sera della scomparsa Nicoletta aveva anche litigato con la madre per via di quella uscita notturna e improvvisata, preferendo che invece restasse a casa come aveva già deciso in prima serata. Inoltre, pare che Nicoletta e Margareta avessero delle frequentazioni poco limpide e giri particolari. Carmelo Bonetta viene raggiunto a casa dai carabinieri alle 9 di domenica mattina del 17 marzo. Racconta che la sera prima era stato con Margareta Buffa, sua fidanzata, dalle 23.30 fino al mattino. Prima però tocca alla ragazza che viene convocata in caserma. Margareta dice di essere stata con Carmelo Bonetta a inizio serata e fino alle 23.10. Di essere andata da Nicoletta è rimasta con lei fino a mezzanotte 10, di averla salutata e averla vista allontanarsi verso via Roma. A quel punto Margareta ha preso la sua auto in via Mendola ed è andata a casa di Carmelo, con il quale è andata poi a ballare all'area 14, un locale di Castelvetrano. Gli inquirenti cominciano a sospettare che i due stiano nascondendo qualcosa. Nel frattempo, nessuna notizia di Nicoletta. È una domenica concitata. Gli investigatori sono riusciti a risalire ai presunti autori dell'omicidio grazie alla testimonianza di un barista che ha detto di avere visto la giovane scomparsa in compagnia dei due fidanzati. Grazie all'acquisizione delle immagini di videosorveglianza di un noto locale marsalese, la indelicato è stata notata nelle prime ore di domenica in compagnia di Margareta Buffa. Nel pomeriggio, Carmelo Bonetta viene risentito e gli conferma di essere stato tutta la sera con Margareta Buffa, di essere andato con lei a ballare a Castelvetrano, di essersi prima fermato in un locale a lungomare di Mazzara e di essere rientrati a casa sua intorno alle 5 del mattino. Gli inquirenti cercano più indizi nelle immagini registrate da tutte le telecamere di sorveglianza collocate lungo l'ipotetico percorso seguito da Margareta, secondo le sue indicazioni per accertare gli spostamenti con Nicoletta. Gli inquirenti dunque acquisiscono le registrazioni video delle telecamere di sorveglianza che si trovano lungo il percorso che Margareta Buffa ha detto di aver fatto insieme a Nicoletta. Anche in questo caso le immagini smentiscono in parte le dichiarazioni di Margareta Buffa. Le due ragazze si erano fermate infatti al bar Bernini di via Roma fino a mezzanotte e 50 e non come ha detto Margareta a mezzanotte e 10. Ma le stesse immagini delle telecamere che si trovano lungo il percorso che Margareta ha detto di aver fatto a piedi e in auto prima e dopo aver incontrato Nicoletta in realtà non rilevano la presenza di Margareta. Gli inquirenti a questo punto mettono sotto torchio Margareta Buffa e Carmelo Bonetta, gli amici di Nicoletta. È a questo punto che Margareta si tradisce. Non sa di essere ascoltata quindi dice a Carmelo mentre attende di essere interrogata. Non gli far trovare il corpo, da qui voglio uscire con la mia auto. Shhh, fa segno lui, intimandole di tacere, evidentemente preoccupato di essere ascoltato. Shhh, cosa? protesta lei. Si deve calmare la situazione perché io ho la macchina sequestrata. Io devo uscire da qua con la mia macchina e la mia vita, ok? Ci siamo? Gli interrogatori alternati, parola dopo parola, una contraddizione dopo l'altra, svelano che la possibilità di rivedere Nicoletta viva si fa sempre più residua. Attraverso lo scontro avvenuto sui social, gli inquirenti hanno appreso che vi era rivalità tra le due ragazze che, a quanto pare, durava da qualche tempo. Sentita dagli inquirenti, Margareta avrebbe dichiarato mi ha dato della zoccola. Poi Carmelo Bonetta confessa. L'uomo dice agli inquirenti di aver partecipato all'uccisione di Nicoletta e di averne poi bruciato il cadavere, fornendo anche le indicazioni per ritrovare il corpo della ragazza. C'era un fortissimo risentimento nei suoi confronti. Avrebbe raccontato l'omicida, maestro di balli caraibici di Termini Immerse, che ha ricostruito la dinamica dell'omicidio e ha indicato il luogo in cui è stato ritrovato il cadavere. Dice che il sabato sera si era sentito alle 23.30 con Margareta. Sono usciti insieme, sapendo già cosa fare durante la serata. Margareta va a prendere Carmelo a casa, incontra da Fornara. Poi tornano a casa di lei a prendere dei vestiti di ricambio. Intorno a mezzanotte, Margareta si fa lasciare al semaforo del cavalcavia all'incrocio con via Pasca Sino, dove abita Nicoletta. Le due si erano date appuntamento per andare a bere qualcosa insieme. Nel frattempo Carmelo va a fare rifornimento al distributore di carburante, al porticciolo. Poi va a parcheggiare l'auto nella piazzola davanti il parcheggio comunale, in via Omodei. Scende, si infila dentro al portabagagli della lancia Ypsilon, ossia della macchina di Margareta, e lo chiude. Ad un tratto sono arrivate le due ragazze che sono salite in macchina. Carmelo si era già accordato con Margareta sul da farsi e su dove andare. La destinazione finale, dice Carmelo, era il luogo dove avevamo consumato il nostro primo rapporto intimo, ovvero in una traversa a destra dopo l'ospedale Paolo Borsellino. Un luogo ai due molto caro, perché c'è una grotta a forma di cuore con un altare all'interno dove, a quanto dice, alcune persone effettuano dei sacrifici di gatti, una sorta di atti biblici. Non ho mai partecipato a questi reti. È l'ora dell'appuntamento. Le due ragazze salgono in macchina e partono. Nicoletta non immagina che, nascosto nel portabagagli, ci sia Carmelo. Non ho visto il percorso che abbiamo fatto. Sentivo parlare, ma non riuscivo a capire i loro discorsi, dice Carmelo. Poi arriva il momento più drammatico della confessione. Arrivati sul posto, la macchina si è fermata sul ciglio della strada. Margareta e Nicoletta sono scese. Dopo circa due o tre minuti sono uscito dal cofano che era leggermente appoggiato e mi sono incamminato. Io ho seguito le due ragazze da dietro, facendo in modo che Nicoletta non si accorgesse della mia presenza. Ho ascoltato Nicoletta che, parlando con Margareta, le diceva che voleva avere un rapporto intimo con lei in aperta campagna. In quel momento mi sono scagliato contro Nicoletta e l'ho colpita, dapprima con dei pugni dietro la nuca e successivamente con un coltello tipo militare, sempre colpendola alla schiena e in altre parti del corpo. L'ho colpita diverse volte in varie parti del corpo, tanto che lei non ha nemmeno avuto il tempo di potersi proteggere. Margareta, mentre colpivo Nicoletta, anche se eravamo d'accordo, si era allontanata in quanto non ce la faceva ad assistere all'aggressione. Questo particolare verrà rivisto da Carmelo nei successivi interrogatori. Gli inquirenti annotano, mentre Carmelo Bonetta racconta i momenti coincitati del delitto. Nicoletta non ha avuto il tempo di reagire. Subito dopo ho preso la bottiglia di benzina, l'ho aperta e gli ho buttato addosso la benzina e con un accendino ho fatto una striscia di benzina fino ad arrivare alla ragazza e ho dato fuoco. Nicoletta non si muoveva. Margareta non sapeva che avessi preso la benzina. Mi aveva detto che dovevamo lasciarla a terra morta. Appena abbiamo visto che il corpo di Nicoletta era avvolto dalle fiamme, sono sceso giù e sono salito in auto. I due tornano verso casa di Carmelo in contrada a Fornara, si cambiano e partono verso la discoteca Area 14 a Castelvetrano. Arrivati dalle parte di Mazzara si fermano con l'auto sul ponte per gettare il coltello usato per uccidere Nicoletta nel fiume sottostante. I due, prima di andare a ballare, entrano a Mazzara, vanno in una gelateria, consumano qualcosa e poi ripartono per l'Area 14 dove sono rimasti fino alle 4.05. a ballare. Intanto viene effettuata l'autopsia sul corpo di Nicoletta Indelicato. Il risultato dell'esame autoptico è agghiacciante. Sul corpo della giovane marsalese infatti sarebbero state sferrate ben 12 coltellate. La lama da 20 cm con la quale Carmelo avrebbe ucciso la 25enne sarebbe stata fatale nei fendenti individuati alla schiena con interessamento dei polmoni e al collo con taglio della vena giugolare. Sarebbero state trovate anche delle ferite a una mano e a una spalla. Nicoletta avrebbe ricevuto alcuni colpi in quelle zone, probabilmente nel tentativo di difendersi. Inoltre la ragazza pare fosse già morta quando l'assassino ha bruciato il suo corpo. L'autopsia è stata effettuata al cimitero di Marsala da Stefania Zerbo dell'Istituto di Medicina Legale di Palermo su incarico del procuratore Vincenzo Pantaleo. Hanno assistito all'esame autoptico gli avvocati della famiglia Indelicato, Roberta Tranchida e Giacomo Frazzita. Sul movente Carmelo racconta che Nicoletta ci ha fatto besticciare con tutti i nostri amici in quanto diceva che io e Margareta facevamo uso di sostanze. Carmelo asserirà che anche Nicoletta si sarebbe innamorata di lui e che Margareta era gelosa. C'è un altro motivo per cui abbiamo deciso di uccidere Nicoletta. Aveva messo in giro delle voci su Margareta. Diceva che si prostituiva, cosa che non era vera. Abbiamo deciso di andare a ballare dopo aver ucciso Nicoletta per non essere scoperti. Carmelo continua. Per quanto riguarda la macchina abbiamo aspirato la polvere e pulito i sedili per evitare che potevano essere trovate tracce. Abbiamo lavato i tappetini con acqua e sgrassatore. I due vengono arrestati. Carmelo tornerà a raccontare altri dettagli. In un altro interrogatorio il 16 aprile, contrariamente a quanto detto in precedenza, racconta che prima lui ha colpito con un pugno e tre coltellate al corpo Nicoletta. Poi Margareta aveva estratto a sua volta un coltello e continuato a colpire Nicoletta indelicato. Sempre in quell'interrogatorio Carmelo riferisce qualcosa che il giudice ritiene inverosimile. Cioè che non era intenzionato a commettere l'omicidio, ma che Margareta l'aveva minacciato con un coltello imponendogli di uccidere Nicoletta e che se non l'avesse fatto non sarebbe tornato a casa. Quindi ha affermato di aver partecipato all'omicidio per timore di essere ucciso da Margareta. Questo è un interrogatorio in cui Carmelo si contraddice spesso. Dice che era stata Margareta in un secondo momento a tornare indietro e dar fuoco al corpo di Nicoletta. In un altro interrogatorio del 12 luglio 2019, Carmelo torna ad ammettere di aver dato lui fuoco al corpo della giovane vittima. Carmelo parla anche di un giro di prostituzione in cui Margareta e Nicoletta sarebbero state coinvolte. Quindi capite che non torna? Prima dice eh no l'abbiamo uccisa perché aveva messo in giro le voci che Margareta si prostituiva. E dopo va di nuovo in interrogatorio a dire eh no ma insomma c'era un giro di prostituzione in cui sia Margareta che Nicoletta erano coinvolte. C'è qualcosa che non va qui. C'è proprio qualcosa che non va. Quindi, ricapitolando, Nicoletta viene ritrovata senza vita, semicarbonizzata nelle campagne di Contrada Santonofrio. È morta dopo 12 coltellate. Quando il suo corpo è stato dato alle fiamme era già senza vita. Nell'auto di Margareta vengono trovate 5 tracce di sangue, tutti appartenenti a Nicoletta Indelicato. È ancora risolta la questione del movente, o meglio, Carmelo ha confessato di aver ammazzato la ragazza perché la stessa lo aveva diffamato, dicendo in paese che era uno che faceva uso di sostanze e le vendeva. Questa versione però non convince gli investigatori che cercano di scavare a fondo per provare a scoprire quali siano le reali motivazioni alla base dell'omicidio. Un omicidio generato comunque da un rapporto di amicizia malato, tossico, da invidie e gelosie trasformate in furia omicida. Il 21 ottobre 2019 inizia il processo con rito ordinario in corte d'assise, presso il Palazzo di Giustizia di Trapani, a carico di Margareta Buffa, accusata, assieme a Carmelo Bonetta, dell'efferato omicidio di Nicoletta Indelicato di 25 anni. In aula vi è solo Margareta Buffa, 35 anni, di origine rumena, adottata da bambina da una famiglia marsalese. Il processo a carico del suo presunto complice sarà separato in quanto ha scelto il rito abbreviato. Entrambi sono accusati di essere gli autori del delitto di Nicoletta Indelicato. Per loro la procura infatti ha chiesto il giudizio immediato e Margareta Buffa, con le manette ai polsi, è comparsa nell'aula dedicata al giudice Ciaccio Montalto, dinnanzi alla corte d'assise. Secondo quanto accertato dalle autorità inquirenti, la notte tra il 16 e il 17 marzo, Nicoletta Indelicato, invitata ad uscire dall'amica Margareta Buffa, sarebbe stata condotta in auto all'estrema periferia della città, in una zona lugubre, sperduta tra i vigneti e gli alti argini del Sossio, a ridosso di un'antica cappella scavata nella roccia. Scese entrambe dall'abitacolo spuntava Carmelo Bonetta, che era nascosto nel portabagagli armato di coltello che si è scagliato contro Nicoletta, colpendola con 12 fendenti. Il corpo della ragazza è stato poi dato alle fiamme, come già vi ho detto. Dopodiché, come se nulla fosse in cerca di un forte alibi, Margareta e Carmelo si sono ripuliti e sono andati a ballare in un locale. Margareta Buffa si è sempre dichiarata innocente, puntando l'indice accusatore contro Carmelo Bonetta, accusandolo dell'omicidio. Una versione dei fatti che ha sempre suscitato molte perplessità. Il movente che rimane ancora oscuro, i tempi di esecuzione del delitto, la premeditazione, l'alloggiamento dell'uomo in uno spazio molto angusto, quale quello del bagagliaio di una piccola utilitaria, il luogo scelto. Il tutto farebbe presupporre che vi siano aspetti ancora da chiarire su cui ora la giustizia deve fare luce. Anche l'avvocato degli indelicato manifesta dubbi e perplessità all'inizio delle indagini sul barbaro omicidio di Nicoletta. L'avvocato Giacomo Frazzita, dopo una settimana, fa sequestrare l'auto per i dovuti controlli dei carabinieri del RIS di Messina ed una decina di giorni dopo il ritrovamento del cadavere, rilascia una intervista al giornale online TP24, che vi riporto integralmente. Il luogo e il cadavere ci raccontano una determinata verità. Nicoletta è stata portata lì, una volta cadavere. Questa vicenda affonda le radici nella parte più oscura della città, ha dei risvolti inquietanti e sorprenderà. Non è un omicidio passionale, come alcune trasmissioni tv di gossip hanno tirato fuori questa pista, ma che in verità non esiste. È tutto da svelare a questa vicenda. Altre persone potrebbero essere dietro alle quinte. Se ci fosse stato un motivo economico, non avrebbe portato all'uccisione di Nicoletta, perché sembrava essere abbastanza disponibile nei confronti di Margareta. Evidentemente i motivi sono molto più profondi e affondano in qualcosa di torbido che non riusciamo a comprendere. Il posto dove è avvenuta l'esecuzione è certamente un luogo torbido, perché senza ombra di dubbio lì si sono alternati dei fattucchieri, perché abbiamo trovato tracce evidenti di fotografie bruciate e cose così. Diciamo di una superstizione atavica e colorita dall'ignoranza. È chiaro che questo vede certamente la Margareta Buffa protagonista di questi pseudoriti poco fondanti, ma attenzione a lasciarci attirare da questo ambiente oscuro, perché in realtà c'entra ma va messo a fuoco nella giusta maniera, perché non riguarda, secondo me in maniera totale, l'uccisione di Nicoletta. Non abbiamo notizia sul telefonino. Bonetta ha detto che lo aveva la Buffa, e questo telefonino potrebbe portare la verità. Dico che siamo all'inizio delle indagini, se così non fosse sarebbe gravissimo e io non lo consentirò. Quindi, come già vi ho detto, grazie alle registrazioni delle telecamere poste in centro storico, i carabinieri sono riusciti a ripercorrere alcune delle tappe principali di quella serata, mentre le immagini tratte dalle telecamere in via Salemi non hanno consentito di capire quante persone vi fossero nella macchina. G'investigatori, sottolinea però l'avvocato Ornella Cialona, difensore di Margareta Buffa, hanno detto che le riprese relative agli spostamenti delle due ragazze si fermano in via Giulio Anca Omodei. Quindi, di fatto, non ci sono prove che realmente Nicoletta sia salita in auto con Margareta. C'è solo la confessione di Bonetta, e sulle riprese video lungo la via Salemi non hanno saputo dire quanti erano in macchina. A queste dichiarazioni risponde l'avvocato della famiglia indelicato, Giacomo Frazzita, che sostiene che le immagini immortalate dalle telecamere danno credibilità al narrato del Bonetta, mentre le dichiarazioni fatte da Margareta Buffa non trovano alcun riscontro. Inoltre è stato ascoltato anche il maresciallo Cucce dei Ries di Messina, il quale ha rivelato che il coltello lasciato nel fiume Mazzaro da Bonetta non riporta, a causa dell'azione dell'acqua, impronte digitali o tracce di sangue. Per il 18 novembre è stata fissata l'udienza nella quale saranno ascoltati i familiari di Nicoletta Indelicato e altri militari del RIS. Intanto sul movente ancora non c'è alcuna certezza. Il movente vendicativo passionale pare non convinca nessuno. Il tribunale di Marsala, il giudice Francesco Parrinello, ha condannato Carmelo Bonetta a 30 anni di carcere per l'omicidio della giovane Nicoletta Indelicato. La sentenza giunge dopo diversi rinvii, alcuni causati dalle condizioni di salute dell'imputato e, da ultimo, per il fermo dell'attività giudiziaria causata dall'emergenza sanitaria. Ergassolo con isolamento diurno per la durata di 18 mesi questa l'entità della condanna chiesta dall'APM alla Corte d'Assese di Trapani nei confronti di Margareta Buffa. Margareta Buffa, che ha assistito all'udienza in videoconferenza dal carcere di Agrigento dove si trova reclusa, è accusata di omicidio premeditato. L'APM lo definisce un delitto efferato frutto dell'astio, del rancore e dell'invidia che l'imputata avrebbe nutrito nei confronti dell'amica Nicoletta e suffragato dalle frequenti liti, dai danneggiamenti, da un esercizio costante di potere nei confronti della giovane, dalla volontà di screditarla agli occhi degli altri. Motivi non recenti, ma sedimentatisi nel tempo assolutamente sproporzionati rispetto al gesto. Motivi bassi, deprecabili. Secondo l'accusa, Margareta Buffa ha messo in atto sia nella fase delle indagini che in quella processuale continui tentativi di depistaggio attuando una pervicace opera di inquinamento delle prove fornendo dichiarazioni inverosimili, fuorvianti, cercando di addossare le responsabilità del delitto al complice oltre che non mostrando mai alcun segno di resipiscenza. Anche le modalità del delitto indicano, secondo l'accusa, la volontà di Margareta Buffa di annullare Nicoletta. Tra queste è la circostanza che dopo le 12 coltellate Bonetta ha dichiarato di aver inferto solo le prime tre ad essere bruciata e stata soprattutto la parte superiore del corpo della ragazza. E se Bonetta è stato condannato a 30 anni, ha detto la PM, la condanna per Margareta Buffa deve essere certamente superiore perché è lei che ha determinato l'omicidio. Quindi ergastolo, massima pena prevista dal nostro ordinamento. Nessuna attenuante generica riconosciuta e l'isolamento diurno nei primi due anni di reclusione. La sostituta procuratrice ha esordito nella sua requisitoria depositando la sentenza di condanna di Carmelo Bonetta e ha poi ripercorso le circostanze che hanno condotto all'omicidio. Per l'accusa è emersa chiaramente nel processo la sudditanza psicologica di Carmelo Bonetta nei confronti di Margareta Buffa. E sarebbe credibile il racconto dell'uomo quando riferisce che è stata lei a chiedergli di uccidere Nicoletta, a procurare l'arma, un coltello proveniente dalla sua abitazione, a scegliere il luogo nelle campagne marsalesi. Ben conosciuto da entrambi, tra l'altro, perché vi si appartavano in intimità e vi consumavano anche sacrifici di gatti e altri strani riti, come bruciare le foto di persone in vise a Margareta. Ad indicargli di procurarsi la benzina per bruciare il corpo e anche cosa rispondere quando venivano sentiti nelle prime fasi delle indagini. La PM ha sottolineato come il racconto dei fatti fornito da Carmelo Bonetta abbia ottenuto una serie di riscontri sia testimoniali sia da immagini acquisite da impianti di videosorveglianza, sia dall'esame dei tabulati telefonici. Mentre le dichiarazioni di Margareta Buffa siano state diverse, fantasiose e anche contraddittorie. Carmelo Bonetta, ha ricordato, ha confessato l'omicidio quando ancora si cercava Nicoletta, ritenuta scomparsa, ha consentito il ritrovamento del corpo e da subito ha raccontato che l'idea di ucciderla era stata di Margareta. Mentre quest'ultima prima tentò di sostenere la sua estraneità. Poi fu costretta ad ammettere che era presente sul luogo, ma affermò di essere stata accolta di sorpresa dall'attenzione dell'amico. Secondo la sostituta procuratrice Melia, quello fornito da Buffa non è un alibi fallito, ma un alibi costruito, falso e secondo la giurisprudenza ciò costituisce un indizio a carico dell'accusato. Il rapporto di forza tra Margareta e Carmelo con quest'ultimo in una posizione di passività e di dipendenza dalle indicazioni della donna emergerebbe dai messaggi tra di loro, dalla testimonianza della stessa madre di Carmelo Bonetta e da quella di tutte le persone che li conoscevano e che parlano di Margareta Buffa come di una persona manipolatrice e bugiarda. Un quadro incompatibile con l'immagine che lei ha voluto fornire di se stessa, quella di vittima dell'iniziativa autonoma e inaspettata dell'uomo. Anche le lettere che Carmelo ha inviato al carcere a Margareta e prodotte dall'avvocato dell'imputata piuttosto che scagionare la donna mostrerebbero, secondo l'accusa, il perdurante attuale stato di soggezione di Bonetta. Milia li ha definiti dialoghi preoccupanti. L'uomo scrive «Senza di te sono solo, non mi abbandonare, io ti amo e te l'ho già dimostrato, voglio far capire al PM che tu non c'entri niente con l'uccisione di Nicoletta». Sulle cause che hanno condotto all'omicidio sono state diverse le motivazioni che, in maniera più o meno confusa, i due imputati hanno fornito. Si è parlato di un giro di prostituzione, ma la PM ha ricordato come non siano emersi elementi certi di prova. Si è detto di rivelazioni che Nicoletta avrebbe fatto su fatti compromettenti di cui pare essere venuta a conoscenza, riguardanti altre persone. Si è parlato anche di richieste di denaro per una fantomatica pratica da avviare per conoscere le proprie origini, in quanto la giovane era stata adottata in Romania come l'imputata. Ma, ha concluso la sostituta procuratrice, quello che emerge chiaramente è invece il rancore, la rabbia, l'invidia e la gelosia che Margareta Buffa nutriva nei confronti di una ragazza che invece avrebbe fatto di tutto per lei e che quella sera l'ha seguita ignara verso la sua terribile fine. Io ho finito di parlare in questo video, fatemi sapere ovviamente se questo caso è stato per voi di vostro interesse. Se conoscevate questo caso, io onestamente non lo conoscevo e sono rimasta scioccata. Io rimango sempre un po' scioccata quando i colpevoli danno fuoco ai corpi. Rimango sempre molto molto male, ci rimango davvero malissimo. Per me questa è una tragedia immensa, è una storia davvero crudele, molto crudele. Ditemi voi che cosa ne pensate di questo caso con un commento qui sotto, io vi leggo sempre e sono sempre molto curiosa di sapere che cosa ne pensate. Detto questo, io vi mando un bacione e noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando, fate i bravi, continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici. Basta che non facciate nulla di criminale. Ciao a tutti! Ciao a tutti!